Finalmente è arrivato il mio nuovo shop online, www.xuder.it, dove troverai i miei gadget ufficiali e ad edizione limitata. Mi raccomando, www.xuder.it. E adesso, video! Ma fammi fare un tuffo dentro lì un attimino. È un po' che non lo faccio! Fammi fare un tuffo dentro lì! Fammi fare un tuffo dentro lì! Dai, per lo storto! È nuovo, è nuovo! Oh dai, una veloce proprio! Avvicina, Leonatio! Magari tu di notte ti sogni il gran cavaliere che non si sa bene. Allora, ma se mi devo sognare, mi devo sognare un fio. Eh, infatti ti sogni sempre me! E infatti ti sogni sempre me! No, non mi storpia le vasco perché ti giuro ti mangio la testa. Are you sure about that? Se mi storpi l'amore della mia vita. Aspettila di farmi le facce perché vado a riguardarla. E poi ti do a volte proprio. Chiudiamo ragazzi la sfida a specchio! Qua! Run! 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 Hello, mothafucka! Ma, ma, ma sei serio! Ma sei se- Cazzo, 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 ha dieci di vita, dieci di vita, ma, no, sto ballando Sui piedi me la sono tirata, porca Na' ferma Ah che partita del cazzo! Si è bloccato nel gradino! Dai! Continuo a correre in mezzo alla foresta con le scarpe coi tacchi, brava cappuccetto! Brava brava! Amo sono tutto storto amo! Amo c'è uno sono cadendo! Attenzione! Non c'è un c***o da rideremo sto cadendo! Amore non c'è la sedia! Amo! Porco diaz! Porco diaz! Porco diaz! Metti sto coso a posto per favore! Aspetta! Ma Cristo Santo! Ma manca anche di qua manca! Dammi un mattone per favore! Dammi un fottuto mattone! Dammi un mattone per favore! Eh ma sembra che sono in partenza per la luna! Cristo ma cos'è? Nooo! Perchè? 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 덜 auto ma non c'è! Perchè? 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 Perchè! Perchè? del tipo PORCHE TROIA PUTA BASTARDA LA MAIALA DELLA SCHIFOSA MAIALA DELLA MEDA CUTA STROZO Vedi cosa c***o succede perchè perchè la gioco così perchè la gioco così perchè la gioco così no santo dio NO SANTO DIO CHE C***O CHISTO DIO NON CI CREDO NON CI CREDO NON CI CREDO DOI MA QUANTI COLPI Gli ho sparato Ma quanti colpi gli ho sparato Vediamo se riusciamo ad andare Perché figlio di p***a si è ancora in c***a AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Maledetto maledetto Con la nonna che santo dio faceva i biscotti con dentro la sciolta cia fai via dentro faceva i biscotti che ci metteva un po' di cioccolato e un po' di gutalax Bravo figlio di p***a Ma l'hai fottuta bene AH PERCA DI AZZO 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 C***O PORCHE AZZO AZZO PERCHE NON HA GIRATO LE ARMI SANTO DIO A UNO DI VIOL FIGlio di p***a PERCHE NON HA GIRATO LE ARMI PERCHE AZZO 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 Che oggi il sermone parlerà di quando è stato sbagliato togliere il P90 per far fronte al nuovo fucile tattico. Wow! 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 Mi sparano! Mi sparano! Vai 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 vai! Aiuto! Aiuto! No 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 o noo no Questo mi è... A parte che non so perchè si si era impicciolito tutto ma wa ma questo mi ha Ma questo qua mi ha proprio... Trappanato, raga! ha preso una botta così forte che lo schermo ha fatto pranks ma che c***o fai ma sei veramente un shave lave bomber di fuori con la faccia di c***o wow minchia che legnata raga porca surrina surrina raga è una sfida è una sfida tra cecchini è una sfida tra cecchini è fuori con la faccia di c***o perché lui mi fa io gli faccio 157 ma che c***o ridi ma questo qui non ho parole io vi vi consiglio quando utilizzate un super attack che magari è chiuso da parecchio tempo e siete convinti che non sia dentro il prodotto non schiacciate di potenza non fatelo ora è una ti 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 si toccano modifica ma che cristo santo problemi c***o del cristo ma che cristo santo problemi c***o del cristo ma che fottuto i problemi di m***o ma che fottuto i problemi di m***o come preservativi sgalder potrai tranquillamente fare le tue cosacce in tutta sicurezza con la gamma di preservativi sgalder sarai al sicuro da malattie venere pioggia e intemperie nel caso tu volessi fare le cosacce all'esterno il pesce non riesco a tirarmelo no efesto no no efesto sei un c***o di gufo ma che cosa stai c***o dicendo nooo the song i know only the first part of song is ingo berlingo nel c***o te lo spingo you know try to sing with me this song you know ingo berlingo ingo berlingo nel c***o te lo spingo nel c***o vero stingo ingo berlingo nel c***o te lo spingo il cosacce ti sparaa nop 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 n кни pto n кни pto kat Cazzaoo! Cazzooo! AAAAA! Aaaaaaaa! Aaaaah! Aaaaah! UNA CHE! UNA HIITTAN! UNA HITTAN! che cosa stai facendo? Noi da pad non abbiamo più la soft I'm E noi da pad non possiamo più fare come facevamo prima Non siamo capaci più a farlo Buon appetito E poi non si provi ad uccidere piuttosto muore Cioè non lo devo uccidere No uno si uno si No non uccida non uccida 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 non uccida Non uccida Non uccida Mi rimangono circa 70 Stavo pre... Stavo pre... Ma cun... Eeeh C'ha il rinculo figa Bianco flash 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 E' il tempo a te lo manco Bravo Mori figlio di puttana Non ci credo Non ci credo Mori merda Ok 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 Per favore Oh se... Oh Ha accato il jack Oh Guarda Sì, dai, bravo, mi sono morto Cosa passa a morire? Lasci perdere Smiro sempre nel box 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 Cioè pensavo ci fosse un pelo più di... Pensavo c'era sotto proprio il vuoto figa C***o la m***a c***o Non mi fatti fattare! Non mi fatti fattare! Nooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ho un'idea F prendi questo! Giuccio Beghello! Andiamo! Ho un'idea F Aspetta! Ma che c***o va? Ma perché a due vanno fatti F? Ma no! Non sei morto vero? Ma perché vanno fatti a due? Aaaaaaaaaah Guaaaaaaaa Guaaaaa Guardi... Aspetti F! Un drop sempre un altro drop F! Oh mio dio non ho mai visto una cosa del genere! Ma stai scherzando? Ma cosa stai dicendo? Oh cazzo c'è gente LOL sono morti Io sono una vera principessa Ok? E ho il termos delle vere principesse Forse stai attento lo prendi nel cu E' impossibile prendermi però Oh cazzo mi ha preso Ehm Entra nel cambio No Voglio fare uno v. 1 Guarda quello v, guardi Dai lo ammazzi l'Italia non faccia curale che bravo mi piace come il calivato oh speri che qualcuno prenda la ziplane e allora ci provi e se non ce la fai fai arblax e non ti vedono più e poi fai scotrobel arblax scotrobel la fortuna è che abbiamo il tetto della casa che poi cercheremo di sfruttare assolutamente per non crepare allora ragazzi se state un attimo in silenzio la rifaccio prego prego uè bella vi invito a partecipare trovate il link nelle mie storie di instagram siudere? cosa? ma che cazzo dice? ho sbagliato ha detto trovate il link nelle storie ma quella è una storia che cazzo dice trovate le mie storie? ah questa è una storia esatto ok la rifaccio la rifaccio uno uè bella a tutti ragazzi voglio ricordarvi vaffanculo ma cazzo schiaffo i da trinity guarda che me sto per fai uno uno questa domenica alla faiga puttana no dai chiuder non so come cazzo si dice fordlight speedy ma se lo devi so prima ha detto che non va bene ma cazzo ma si senti mi raccomando swappate verso l'alto per seguire tua sorella sta stronda per seguire cosa? cazzo ma zio di quel cazzo deve dire una cazzo di parola ci vede chi non ha mai fatto proprio un cazzo allora l'ultima è finita è finita uè bella a tutti ragazzi mi raccomando swipe up per seguire che cazzo ma non riesco cosa cazzo fanno con lo swipe up due uno uè bella a tutti ragazzi vi invito questa domenica alla fortnite sfida trinity powered by wind 3 mi raccomando swipe up su questa storia per avere tutte le informazioni partecipate numerosi da che cazzo è donato ma che cazzo fai non c'ho un'idea incredibile non c'ho un'idea dai non c'ho un'idea se può ve lo fare hanno donato mentre stavo registrando bene ehi tu io io si proprio tu hai un abbonamento amazon prime si ce l'ho ma lo sai che ti puoi abbonare gratis al tuo canale twitch preferito ah si e come faccio ma ti basta digitare porca troia aspetta e per farmi perdonare le ho portato del content nuovo addirittura del content nuovo senta qua auto blu con rocconi brutal lei me salio me sola non tornare in città brum brum perché vediamo la signorina italiana vediamo un po' cosa sta facendo ok si a me piace questo edit mi piace mi piace si si attenzione va a rampare in questo momento e sale con una prepotenza notevole ce la fa ce la fa ti serve per farsi repressare il muro spaz leggendario escar leggendario più high ground più baffo uguale victory 7 kill 16 alive 96 punti guardalo 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 dai baffone dai baff no no problemi tecnici per il ma non doveva andare così dai victory dormi sepolto in un campo di grano e ti si frizza tutto fortnite perché non sanno che bug inventare e allora io li mando a cagare forza epic games muoviti ora e dopo un bug ce n'è un altro ancora siamo arrivati alla season 17 ma se andiamo avanti così io mi guardo le tette il numero 9 il numero 10 il numero 11 il numero 12 ed eccolo qua sulla tua testa sulla tua testa guarda che mi sputti dappertù ma si può cucinare colpa mia colpa mia colpa mia sediti un attimo aspetta ho capito ti devi sedere un attimo ok un momento quattro fette ma come cazzo è passibile infatti è tornato Ma allora lo sai che ti puoi abbonare gratis al tuo canale Twitch preferito? Ma va? E come faccio? Ma è facile! Ti basta solo digitare in chat punto esclamativo prime Allora lo faccio subito I vantaggi? I vantaggi? Uaah! Dei vantaggi veramente assurdi Non vedi le pubblicità Non hai la chat lenta Utilizzi le emot personalizzate E puoi partecipare alla subday Cosa aspetti? Scrivi punto esclamativo prime in chat E abbonati gratis al canale di Twitch No! Bastardo! Bastardo! Vai Giro! Vai Giro! Cristo Giro vai fuori dai c***nani! Palla per Chiesa! Palla per Chiesa! Chiesa! La rete dell'Italia! La rete dell'Italia! Il call di Chiesa! Il call di Chiesa! Let's go! Let's go! Spero che si è chiusa la finestra Il call dell'Italia! Il call dell'Italia! C***o di C***o! Rasmett! C***o di C***o! Oh! Oh! Come mai? Come mai? Ma che vorrai Se snappo poi tu sei L'hai preso con prepotenza Ti dispiace assai Dimmi come mai Tu qui verrai A snappare me Forse un'idea ce l'ho Hai smesso di farti le se... Chi? Destra! Molto bene Molto bene Riescono ad andare a destra Belusi, Alex Ancora vivi Vincenzo Molto IQ Controlla sempre dietro E pressare subito Questo muro Avanti, 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 avanti Da dietro hanno anche gente Devono proseguire 35 live Cominciano a prendere qualche punto di top 79 dentro mattenzone Perché qualcuno sta cominciando a tagliare Vincenzo da dietro Che deve Assolutamente Tenere i muri Full sprayati Destroy Zappi non finiscono Di entrare qui da me Ci svegliano alle 8 Sai Non hanno tempo del tè E poi entrano Nelle partite mie Pensando di chillarmi Ma perché? Ma va bene Finché penso Che mi fai guadagnare Snapperai Oggi ormai E io sono qui Devi guardare le pubblicità Guadagno tutto il D Dimmi ma perché? Mi snapperai Ogni giorno ormai Io non ti posso dire Di fermarti sai Let's go E fa i 300 punti Grande E li va a prendere così E li va a prendere così Con le Klinger E andiamo a farli questi 300 E andiamo a farli Pro Con le Klinger E andiamo a riflessio Loomo Loomo E Loomo Loomo Loomo